Ehi! Tira il dito, Joy. Buon Natale, Jay! Sai cosa ti dico? Pensa tu a lui! Non voglio più vederlo. Per quello che mi riguarda, quell'uomo non esiste più! Non mi sono mai divertito così tanto dall'ultimo incontro dei Celtic Rangers! Come fai a sapere cosa c'è? Oh, lo so. Andiamo a casa, ragazzo, a tutta velocità. Sei tu il bugiardo, Jack! Cosa ti aprì? Ormai sono tutto di te! Cosa ti aprì? Ho scopo la tutta, Nina!